Ragazzi e ragazze vi do il benvenuto su Cassiub Drums, anzi vi diamo il benvenuto su Cassiub Drums perché oggi qui con me c'è Chiara di Acustico. Ciao, ciao Luca. Ciao, grazie mille per essere qua Chiara. Grazie a te. E allora oggi di che cosa parliamo? Più che parliamo di che cosa parla? Perché io sarò quello che fa le domande perché non sa, mentre lei è l'esperta di tutta la questione acustica, quindi di tutta la questione trattamento acustico che se non sbaglio mi hai detto si divide in due parti. Esatto. Ok, quali sono? Fono isolamento e fono assorbimento. Ok, allora fono isolamento è quello che succede qua non si sente fuori. Esatto, o viceversa. Ok, o quello che succede fuori non arriva all'interno come suono, mentre il fono assorbimento è tutta la questione del riverbero? Sì, è il miglioramento acustico della qualità acustica all'interno di un ambiente. Ok. Quindi vai a ridurre il riverbero che è questa sorta di echo rimbombo che puoi avere all'interno di un ambiente. Ok, che solitamente è la parte più fastidiosa. Cioè ho fatto tra l'altro un video già sulla questione riverbero pannelli, un po' in cui dicevo un po' di cose che sapevo io, poi oggi mi dirai, ma ho provato la stanza solamente con rullante quando non c'era nulla montato ed era impossibile starci dentro. Quindi, appunto, oggi parliamo di un po' di queste cose, quindi ti farò un bel po' di domande. Sei pronta? Prontissima. Ottimo. Quindi, qui sono in descrizione, vi dico già che comunque vi lascio i link per il sito di acustico per vedere un po' di cosette tra pannelli, varie tipologie di pannelli che ci sono, oggi ne ha portati anche un po' qua. Ma comunque direi, mandiamo la sigla e poi partiamo, parto con le domande. Ok, molto bene. Allora, la questione è questa. Io nel corso del tempo ho avuto vari studi in cui alla fine ho sempre un po' autogestito la questione del riverbero. Inizialmente con i cartoni delle uova attaccate alle pareti, poi mi sono fatto dei pannelli autocostruiti con lana di roccia, lana di vetro, eccetera, eccetera. Quando sono arrivato qua nello studio nuovo ho detto, no, voglio qualcosa che faccia suonare bene e vera, soprattutto, la mia batteria e la mia voce. Quindi ho chiamato voi e avete fatto un po' di studi, siete venuti qua a vedere, a prendere tutte le varie misure, a capire come sarebbe stato fatto il lavoro di muratura, diciamo. Sì, esatto. E poi avete fatto un progetto. Spiegami un po' qual è l'iter di questa cosa, della lavorazione. Allora, sì, la prima volta che ci hai appunto contattato abbiamo organizzato questo sopralluogo, a cui ho partecipato insieme anche all'architetto Spandre. abbiamo cercato di capire cosa volevi ottenere da questo ambiente e considerando che tu sei molto multitasking, molto dinamico e quindi hai sia prese voce che poi appunto strumentali, volevamo ottenere un suono naturale che poi appunto anche in base al video che avevi già messo su YouTube, nei commenti degli utenti c'è stato detto che appunto era un suono naturale, che è quello che volevi ottenere. Assolutamente sì. E quindi sostanzialmente abbiamo fatto uno studio del tempo di riverbero da raggiungere una volta terminata l'installazione, che sostanzialmente è arrivato sull'ordine di 0,5 secondi. Ok, ok, perfetto. E questo tempo del riverbero è una cosa standard, nel senso che più o meno è sempre lo stesso tempo per qualsiasi cosa, oppure c'è uno studio, cioè c'è uno studio nel senso di cambia in base allo strumento, cambia in base alle cose, perché come mi dici tu, io sono molto multitasking e soprattutto la voce, il volume della voce soprattutto è completamente diversa dalla batteria. Certo. Quindi non sono due cose, non credo siano due cose simili ma completamente diverse. Esatto. No, allora guarda, il tempo di riverbero che tu vuoi ottenere dipende appunto sia dallo strumento che dall'attività che vai a svolgere, quindi ipoteticamente se tu avessi dovuto trattare un ambiente solo per la batteria, potevi anche scendere sotto 0,5 secondi. Ok. In questo caso, visto che appunto tu parli, anche 0,5 è un buon valore. Ok, ok, perché se fossimo scesi sotto 0,5 per la voce sarebbe stato troppo secco? Eh sì, praticamente vai a ottenere un ambiente troppo anecoico, quindi non è appunto più un ambiente naturale. Ok, anecoico, se non sbaglio, giusto perché magari qualcuno non sa cosa voglia dire, vuol dire che la camera anecoica è una stanza in cui c'è 0 riverbero. Esattamente. Quindi si perde tutto. Esatto, sì, perché un suono naturale comunque ha dei riverberi, ha dei rimbombi che arricchiscono il suono e lo rendono buono. Cioè... Sì, sì, più bello da sentire banalmente. Esattamente, esattamente. Ok, ok. Poi per la batteria, tra l'altro, il riverbero è molto importante. Ok, ok, molto bene. Quindi, sopra il luogo avete visto com'era la stanza? Sì. Stanza che in realtà io stavo ancora facendo. Sì, era un cantiere. Sì, sì, sì. Esatto. Stavo ancora tirando su un putti muri perché questo muro all'inizio non c'era. E neanche un muro che non vedete, ma c'è dietro di me dove mi ero creato una specie di nicchia, diciamo, dove fare un mini magazzino. E quindi io l'unica cosa che vi ho detto è stata, ci devo suonare la batteria, ci devo parlare. Sì. Ok, sì, allora sostanzialmente noi di acustico in genere quando dobbiamo intervenire su ambienti musicali o comunque audio come il tuo o simili, abbiamo tre step di intervento. Il primo è una correzione generale del riverbero, quindi non devi ottenere una camera necoica, ma non devi neanche ottenere, che poi alla fine sembra che parli dall'interno di un tombino. Esatto. Come succede in alcune trasmissioni un po', diciamo, non primarie radiofoniche, ecco. E poi il secondo step è sostanzialmente una correzione delle frequenze in modo lineare, più lineare possibile, in modo che il suono sia appunto uniforme alle varie frequenze sonore. Pulito, diciamo. Esatto, sì. E poi il terzo step è sostanzialmente una correzione poi di dettaglio per verificare che alcune frequenze non scompaiano a seguito dell'installazione fonoassorbente o che non spicchino al contempo. Eh sì, perché quindi praticamente andando a fare una correzione si rischia di mangiare delle frequenze. Esatto, sì. Ok. Esattamente. Ok, ok, ok. E questo in base a cosa vai a inserire, come lo inserisci. Ok, ok, ok. Sì, corretto. Ok, perfetto. Quindi questa è stata, diciamo, appunto la verifica. Ok, quindi parlando proprio di pannelli, dato che ne abbiamo parlato adesso, i pannelli che abbiamo utilizzato, cioè che mi hanno consigliato e poi siamo andati a inserire, sono questi pannelli qua, che vedete di qua, di qua, e in realtà anche dei pannelli a soffitto che potete vedere in questo momento a video. E quindi la cosa che ti chiedo è perché questi pannelli, perché dei pannelli diversi, dato che quelli sono dei pannelli neri e colorati. Ok. Cioè neri con dei buchi in mezzo, diciamo, e soprattutto perché questa quantità di pannelli. Ok. Anzi, altra domanda, poi mi rispondi un po'. Aiuta Luca. Ma mi avete dato anche la posizione. Sì. Ok, quindi il perché di tutto questo. Poi fai tu, se mettere prima una, poi l'altra. Ok, allora posso mischiare. Sì, sì. Allora, tipologia dei pannelli. Allora, sostanzialmente abbiamo inserito due serie di pannelli in questa installazione. Una è ad esempio la Ecoplan, che è la nostra serie classica, sostanzialmente. È un pannello in poliestere. Ok. È un pannello fonoassorbente, quindi assorbe appunto il suono e riduce il riverbero, ma soprattutto è un pannello broadband. Ciò vuol dire che agisce su un ampio spettro di frequenze. Ah, ok. Ok. E sostanzialmente è quello che è installato a soffitto, che si vede un po' a composizione. A parete invece abbiamo messo dei pannelli di una serie di nuovo Ecoplan, ma leggermente differente. Ok. Nel senso che hanno, come dicevi tu, hanno dei buchi. Sì, questo è il termine tecnico ovviamente. Esattamente. Che possono essere di due disegni, quindi o con i cerchi o dei tagli verticali. E hanno sia una componente estetica che appunto prestazionale. Estetica perché sostanzialmente puoi personalizzare i pannelli, puoi scegliere il colore che vuoi di rivestimento. Esatto, infatti vabbè, questi sono arancioni. Io ho detto facciamoli blu, perché ovviamente... Tutto blu. Esatto, quindi ok, perfetto. Quindi queste le tipologie di pannelli. Quantità? Allora quantità, in base appunto alle valutazioni che abbiamo effettuato, perché il tempo di riverbero che tu hai in un ambiente dipende dalla dimensione, dal volume dell'ambiente, ma dalle finiture interne. Quindi ti avevamo anche chiesto cosa volevi fare. Esatto, abbiamo stimato il quantitativo e poi in base dei calcoli il posizionamento. Quindi ti abbiamo dato una planimetria, eccetera, e tu hai fatto un ottimo lavoro. Ok, bene, grazie. Sono contento. Hai messo tutto, perfetto. E a livello di posizionamento in realtà poi alcuni pannelli erano consigliati distaccati, in modo da fungere anche come bus strap per far lavorare il pannello sia sul fronte che sul retro. Ok, tra l'altro questa roba me la punto un attimo qua. Hai detto bus strap, me la punto un attimo qua perché poi ho una domanda, ma te la faccio poi dopo. Ok. No, effettivamente sì, la questione è stata, prendi i pannelli, ti conviene prendere i pannelli, mi avevate detto, mettergli un'altra parte di gomma dietro. Sì, poliestere in realtà. Scusa, poliestere. Brava che mi dici le cose perché ogni tanto, vabbè. Scusa, sono un po' sensibile su questi argomenti. Eh no, ma c'hai ragione, ti chiedo scusa, ogni tanto farò un po' di errori di nomi, ma inserisci, attacca una parte, una parte dietro, vabbè, un pezzo di poliestere e poi attacca lo soffitto. Esatto. In questo modo prende sia da una parte sia dall'altra e fa il doppio del lavoro. Esattamente, sì, perché funziona anche il retro in questo caso. Ok, certo, 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 certo. E ok, allora, abbiamo detto tutto su questa cosa? Allora, una cosa direi ancora. Su questi pannelli, che sono appunto quelli decorati, hai anche un effetto diffrattivo. Ok. Cosa vuol dire? Vai a rompere l'onda, quindi oltre ad avere un assorbimento hai una riflessione dell'onda sonora differente, quindi è sostanzialmente un po' come i vecchi piramidali. Ok, quindi il suono arriva e poi si apre anche? Sì, esatto, perché nel di massimo il suono, una volta che arriva contro una superficie, diciamo, si rispecchia nel senso opposto e poi ha una riflessione più lineare. In questo caso invece, avendo questi spessori differenti, densità di materiali, hai un effetto diffrattivo come i diffrattori, quindi viene scomposta e frazionata. Ok, ok. E allora, parlando sempre di pannelli. Sì. Dato che continuiamo il discorso. Io prima ti ho detto, mi sono sempre un po' autogestito, quindi sono partita dalla cantina con i cosi delle uova, poi ho fatto i pannelli con la lana di roccia, se non sbaglio era, e poi ho visto questi qua. E ho detto, aspetta un attimo, questione salubrità, quindi quelli che avevo prima facevano bene oppure no? Perché qui direi che possa essere abbastanza tranquillo. Assolutamente sì. Alla fine, sì, sì, sì. E cosa cambia su questo lato? Allora, cosa cambia? Allora, sostanzialmente il poliestere, perché alla fine, come pensiamo alle bottiglie di plastica, dell'acqua ad esempio, quello che usiamo noi è in gran parte riciclato ed è interamente riciclabile, quindi hai già una buona componente comunque appunto ambientale del prodotto. Ma soprattutto è un prodotto che non decade nel tempo, non sfarina, non cambia di prestazione, sostanzialmente rimane com'è, ma soprattutto non disperde polveri. La problematica ad esempio dei vecchi piramidali, appunto... Il bugnato. Esattamente, sì, il bugnato, e che sono realizzati in poliuretano. Il poliuretano è un materiale che nel tempo decade, ma soprattutto sfarina e crea queste polveri che poi sono inalabili e volatili, si disperdono nell'ambiente e non sono salubri. Ok. Quindi è sia un problema che ingiallisce ad esempio nel tempo e quindi non è poi neanche più estetico, ma non è soprattutto salubre. Quindi noi in realtà come acustico dal 2020 abbiamo dismesso questi prodotti e ci siamo traslati interamente sul poliestere. Ok. Che ha delle caratteristiche differenti e tra l'altro, appunto, anche a livello di certificazione al fuoco, questi pannelli sono certificati in Euroclasse BS2D0, che è quella anche per ambienti pubblici. Ok, perfetto. Per capirci. Esatto. E non hanno appunto FAV, che sono le fibre volatili artificiali che possono causare problemi di salubrità e non decadono. Ok. Immagino questione l'anee ancora peggio. Sì, nel senso che, allora, sono molto utilizzate, c'è da dire che sui pannelli fono assorbenti, allora in questo caso tu le avresti installate in aderenza, quindi all'interno dell'ambiente, non in un'intercapedine, e tu immaginati che gli agglomerati, quindi le lane di roccia, di vetro, sono praticamente degli agglomerati di composti inerti, che devono essere legati insieme con delle colle. Ok. E quindi formaldeide. Ok. Che non è assolutamente salubre. Quindi rischi di inalare queste polveri, disperdono delle fibre e soprattutto, appunto, come si vede sui pannelli che hai rivestiti anche con il colore, con il tessuto. Il tessuto che usiamo è fono trasparente, ciò vuol dire che è traspirante, quindi va a finire che la polvere che si disperderebbe dal pannello passa attraverso il tessuto che lo ricopre e lo respiri. Beh, anche perché c'è sempre la cosa di dire, vabbè, tanto li lascio fermi e non esce nulla da quei pannelli, ma in realtà col suono... Sì, esatto. Il suono non si vede, ma comunque agisce lo stesso, quindi un po' di roba... Sì, esatto, poi comunque rimangono lì, non è un componente... Esatto, non è il massimo, non è il massimo. Ok, molto bene, quindi due cose ti chiedo ancora. Quella che mi sono tenuto lì, te la lascio per ultimo. Ok, che sta a spenso. Esatto, ma dato che, appunto, hai fatto vedere i due pannelli che poi sono quelli che ho utilizzato anche io qua, ne hai degli altri? Sì, ne abbiamo un po', sì, sì. Ok, ok, ne avete un po', scusami, volevo dirti, ne hai degli altri qui che hai portato oggi? Assolutamente, sì. Come funzionano gli altri? Allora, prendo io così... Tu vai, esatto. Questo ne abbiamo parlato. Quello l'hai messo. Quelli che ho messo a soffitto. Esatto. Questo uguale? Sì, è un colore diverso, però... Ok. Sì, esatto, è una finitura diversa, ma è uguale a quelli che hai installato tu. Identico. Sì. Questi qua a me piacciono un sacco. Ok, bene. Questi mi fanno impazzire perché sono esagonali. Sì, allora questi sono... Eh, vero male, sono contenta che ti piacciono, sì, sono anche dei colori molto vivaci. E quindi questi qua sono colorati, quindi esteticamente sono belli più che altro perché puoi fare tipo composizioni, queste cose qua, e sono comunque simili come... Sono uguali come materiali. Sì, allora il materiale, esatto, è di nuovo in poliestere, lo stesso spessore, quindi si chiamano decostile questi. Sostanzialmente sono personalizzabili con questo tessuto fonotrasparente in superficie. Può essere sia sul fronte che anche sul retro, quindi bifacciali. In questo caso sono per essere messi in aderenza, quindi sono monofacciali. Esatto, li facciamo in forme diverse, anche cerchi, quadrati, e li stanno in composizione. Beh, bellissimo, infatti vabbè, arancione, c'è anche... Ah, c'è questi. Ce ne sono altri, quindi, no, belli, come composizioni, questi bellissimi, tra l'altro questi qua in... Con questa forma qua, veramente... Veramente molto, molto bella. E poi c'è questo. Ah, sì, quello stampato. Ok, che questo è... Qui mi immagino tipo il logo stampato sarebbe finissimo. Esatto, esattamente, sì, sì, infatti in alcuni studi abbiamo messo, soprattutto sul fondale puoi mettere il tuo logo o comunque un'immagine che ti piace stampata su tessuto. Certo. E in HD. Qui invece come materiale è diverso? Allora, no, perché appunto, come ti spiegavo, poliestere anche a livello di interventi è quello ritenuto anche dai tecnici sostanzialmente il migliore, sia prestazionalmente che poi appunto dal punto di vista di salubrità. E sia il tessuto che l'interno, sostanzialmente un materassino in poliestere. Ok. Ha un telaio di rigidimento, così puoi fare anche dei formati molto più grandi rispetto a... E sei tranquillo. Esatto, ok. Esattamente. E appunto anche il tessuto in questo caso è riciclabile, è riciclato. Ok, perfetto. E questi si possono sempre attaccare tranquillamente dal soffitto e pareti? Allora, questi sì, puoi installarli sia in aderenza che in sospensione con dei kit. Ok. In questo caso. Perfetto. Ok, ottimo, ottimo. Sì, tra l'altro questione comunque di posizionamento è stato veramente super semplice. Perché poi è un materiale, ho visto che un materiale che attacchi e rimani, anche a soffitto, attacchi e rimani 10-20 secondi lì, stacchi anche i pannelli, quelli da un metro venti comunque, che rimangono lì. Quindi... Sì, è molto leggero comunque. Veramente zero problemi, sì, leggerissimo. Bene. Quindi nessunissimo problema adesso. Adesso. Qui ti voglio. Perché? Aiuto. Allora, no, prima in realtà mi hai detto, hai tirato fuori la parola Bustrap. Ok. Ok. Quindi voglio capire un attimo perché se ne sente sempre parlare, ma voglio capire la verità. Cioè io se penso a Bustrap penso a quelle gomme angolari che sono tante volte anche piccoline, che si mettono su tutti gli angoli. Quindi voglio capire se funzionano veramente o no, più che altro perché dico, cacchio, per fare questa stanza, comunque ci vanno dei pannelli abbastanza grandi. Quegli affari da 20 centimetri funzionano o non funzionano o funzionano per qualcosa o qualcosa no? Ok. Vado? Vai. Allora, no, non funziona. Non funziona. Ok, perfetto. Allora, sono un po' una leggenda metropolitana. Va anche un po' di moda parlare dei Bustrap, però appunto, come dicevi tu, un pannello di 20 centimetri messo in un angolo, cosa può funzionare con un onda magari di 100 Hz, che è quindi una lunghezza di 3 metri? Sostanzialmente non funziona. Certo, aggiungo solo una cosa, Bustrap, giusto per far capire, perché mi hanno detto solo Bustrap, sarebbero trappole per bassi, quindi quei pannelli che vanno ad agire sulle frequenze che troviamo più in basso, quindi quelle più basse. Corretto. Vai pure, scusami, era solo per fare una... Ok, sì, no, in realtà, appunto, vabbè, in questo caso, perché appunto tu devi fare anche una correzione sui bassi, appunto, abbiamo installato i pannelli distanziati dal soffitto, come dicevamo, e quindi già funzionano. E poi in realtà, confrontandoci con te in fase di sopralluogo, ci hai detto che creavi una parete. Esatto, due pareti. Due pareti, esatto. E quindi, sostanzialmente, questa controparete in cartongesso che hai fatto, in realtà, funziona da Bustrap, quindi abbiamo fatto un approccio più concreto, perché funziona come Bustrap, allora, tu che sei un batterista, sostanzialmente, funziona come la pelle della batteria, che quindi è tensionata ed è fissata all'estremità. In questo caso, la parete in cartongesso è fissata sia a soffitto che a pavimento e funziona come una lastra vibrante. Ok. Quindi, se tu hai quest'onda famosa da 100 Hz, che quindi è una lunghezza d'onda di 3 metri, va a sbattere contro la parete, perché sostanzialmente i Bustrap sono anche un impedimento fisico proprio all'onda stessa, e considerando che tu hai già una parete altra 3 metri, l'onda arriva da 3 metri e funziona già in altezza. In lunghezza è molto più lunga e quindi prendi anche delle frequenze più basse. Ah, ok, ok. Quindi, alla fine è tutto il contrario di quello che si aspettano i batteristi, nel senso che funziona da Bustrap una parete completa. Sì, in questo caso sì. Ok, 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 molto bene. E tra l'altro in questo caso funziona sia questa parete qua, che appunto è quella più grande, sia anche l'altra. Sì, esatto, anche questa, perché comunque... Che è un po' più piccolina, perché praticamente sembra un quadrato. Sì, fatti sarà 3x3. 3x3, sì, ok. Ok, quindi questo funziona e effettivamente devo dire che soprattutto sulla cassa, la cassa ha un suono molto definito. Ok, bene. Quindi, ok, risolto il perché la cassa abbia questo suono così definito. E quindi, che dire? Ti ho tassato abbastanza di domande, direi. Sei stato ancora gentile. Ok, bene, grazie. Allora, io ti ringrazio intanto per essere venuta qua a spiegarmi tutto quanto. Qui sotto in descrizione avete il link di Acustico, così almeno lì potete vedere tutte le varie tipologie di pannelli, tutti i vari contatti nel caso qualcuno volesse contattarvi per capire. Quindi appunto, grazie ancora, grazie mille. Grazie a te Luca. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.